Mara Fasone contro Andrea dal corso dopo la scelta di Teresa. Ultime notizie uomini e donne Mara Fasone ha condiviso il suo percoso a uomini e donne con Teresa Langella. Possibile che non abbia scritto nulla sulla scelta. In verità ha lasciato su un Instagram un messaggio che per la maggior parte dei suoi fan assomiglia tanto a una frecciatina al vetriolo per Andrea dal corso. Durante tutta la durata del suo trono, Mara ha più volte dichiarato di non fidarsi dell'ex corteggiatore e che lo vedeva fin troppo costruito. Per i suoi falawar ci ha visto giusto e le hanno scritto una miriade di commenti. Non sono mancati nemmeno i sostenitori di Teresa, che si sono scusati per aver messo in dubbio, in passato, la sua sincerità. Uomini e donne Nus, il messaggio di Mara Fasone dovrebbe essere un reato giocare con i sentimenti altrui per i propri resi conti. Un messaggio che ha fatto scoppiare la polemica. È intervenuto un massiccio numero di fan e questi sono i commenti più popolari, complimenti perché, nonostante tutto, hai avuto una parola giusta nei confronti di Teresa, grandissima. Una ragazza vera come te se ne era già accorta. Adesso tutti quelli che ti hanno criticato, muti. Sei stata la tronista più sincera, complimenti, ci avevi visto lungo su quell'ipocrita, tu avevi capito sin dal primo giorno quanto era falso. Brava, Mara. Anche Francesca del Taglia ha parlato della scelta di Teresa di Uomini e Donne, raccontandoci qualcosa in più. Cosa ha fatto Andrea dal corso dopo il serale di Uomini e Donne? Un attacco diretto ad Andrea, questo di Mara Fasone. Così sembra. Ma quest'ultimo preferisce restare in religioso silenzio. Non vuole litigare coi più, né con i fan di Teresa né con quei personaggi famosi che si sono schierati dalla parte dell'extronista. Giordano Mazzocchi, invece, ha speso delle belle parole per Antonio Moriconi. Proprio lui che come il suo amico ha avuto dei problemi sentimentali, ma nil'affarù di te udite starebbe tentando di ricucire i rapporti.